musica ehi bella a tutti ragazzi qui Jacopo Mii Wolf io ho masso Jacopo Mii no scusate io devo dire Jacopo Mii e lui Wolf ok rincominciamolo bella a tutti qui Jacopo Mii eeeh eeeh chi è che oggi ci sia qua vabbè non sappiamo il suo nome allora allora la carne bruciata e intanto iniziamo a scavare una cazzo di miniera allora praticamente vi spiego come faremo la nostra miniera che cazzo vorrete che stiamo a fare se no questa qua sarà una delle puntate più divertenti guarda sicuro perché io ho visto come scava le miniere allora dobbiamo fare una cosa intelligente quindi io propongo di fare una scala semplice semplice per chi non è capace di fare altro come me quindi propongo allora innanzitutto per il pericolo di incontrare creeper e cose varie sotto terra propongo di mettere tutto quello che non serve per la nostra scalata sotto terra allora qua dentro praticamente qua dentro praticamente i semi non servono la spada serve no eh si io però no aspetta prendi la pinta facciamo più altri picconi appunto ci serviranno no non servono niente però li facciamo per bellezza allora noi facciamo così che così se abbiamo leni bastoni eccetera non fraintendete a sufficienza adesso facciamo no che cazzo sto facendo allora teoricamente con tutti i codi 4 5 6 7 8 8 no cazzo sei un genio vabbè sembra poi la battuta che faccio un mio compagno che diceva ma sai contare quanto hai matematica 4 non l'ho capito allora naturalmente prenderli uno tutti e una volta è vietato perché anche l'inventario di Minecraft ha i suoi limiti ragazzi il mio compito non riesce a gestirlo poi suggerirei di fare altri 4 bastoni e dato che dobbiamo incontrare magari dei creeper di farci anche no facendo una spada che si fa no ne basta una tanto non incontrerò tanti mostri spero intanto ci facciamo anche un cazzo allora 3 e 3 la carbonella di prima notare scherzate ce ne serviranno probabilmente di più quindi facciamo altri 4 bastoni e poi li mettiamo qua e facciamo qua allora ragazzi questo qua sarà il video più lungo di sempre perché non c'è un altro cazzo da fare vedo che intanto la fornace ha finito la bistecca di manzo iniziamo con lo scavaggio allora scavaggio allora prima di tutto ricordatevi sempre la prima legge delle miniere di Minecraft Minecraft allora aprite l'inventario e praticamente cercando di non perdere le vostre torce mettetevele nel secondo posto come ho fatto io cercate di posizionare le torce ovunque tanto chi cazzo se ne frega allora naturalmente io dopo un'intera giornata passata educazione fisica praticamente che poi ci sono messo a puzzare ma questo non mi interessa a fare pallavolo giustamente tutti e due abbiamo nastica lo stesso giorno anche in due ore diverse abbiamo fatto pallavolo e io mi sono squartato la mano nel fare la battuta e in comprensa non è riso nessuno allora piazzate torce perché te non hai mai visto una femmina che gioca a basket cioè praticamente queste qua arrivano non è che dicono la palla in mezzo 10.000 dislike da tutte le femmine non è che vanno a prenderla dicono si guarda come dire tiro i te o tiro io all'avversaria giustamente a pallavolo lo faccio anch'io si ma a pallavolo la cosa basket è un altro basket bisogna andare addosso all'avversaria qualsiasi cosa succede no quello lì è calcio ecco adesso 10.000 dislike da tutte le femmine che hanno guardato sto video apposta per mettere i dislike e 10.000 da tutti quelli che giocano a calcio siamo pregati e che vengono pure a casa nostra a picchiarci no guardate che anche adesso io volevo prendermi FIFA quindi sono uno di voi allora praticamente bisogna adesso 10 dislike a Stefan Karls perché non gli piace FIFA praticamente bisogna sondare no 47 no bisogna sondare il terreno Wolf praticamente per riuscire a capire a che punto si può trovare si possono trovare i buoni minerali bisogna sondare il terreno come ho già detto prima mi sembra giusto allora qua sto coso qua non serve giusto no giusto non serviva ho fatto giusto si ma se non le vedi con il fianco non ci saranno lì in mezzo non credo sta buono allora non iniziamo già a incazzarci che di solito finisce così in Minecraft allora praticamente di solito i minerali più ricchi e preziosi si trovano presso il livello dei 25 26 però vabbè noi lo cerchiamo qua noi lo cerchiamo qua noi lo cerchiamo qua perché non abbiamo un cazzo di meglio da fare giusto per vedere se c'è qualcosina e procurarci un po' di pietra se non c'è niente tanto scendiamo dovresti iniziare a trovare qualcosa sì ma guarda che è un mondo dove c'è meno carbone tutto dovreste iniziare a trovare qualcosa quando sentite la lava circa sui livelli 25 sì circa i diamanti si trovano più in profondità naturalmente perché li hanno nascosti perché i creeper hanno paura più derubate non importa l'estetica della della miniera perché tanto che cazzo ma che ci vada a meno che fate i video su youtube allora ecco infatti la nostra cosa l'estetica è la madonna ho sentito la musichetta cos'è? la musichetta la musichetta perché adesso hanno aggiunto pure la musichetta in mani ogni tanto la senti mai saputo allora praticamente siamo a livello 40 la scala non finisce mai ricordatevelo sempre noi continuiamo a scavare state attenti perché anche qui se trovate delle cavità già fatte molto probabilmente potreste trovare dentro dei mostri o magari come è capitato a me riuscite a recuperare ho offerto tutto quello che volete poi cadete dentro la lava e morite sì esatto quello lì era perché ero io i comandi ecco abbiamo perso il nostro primo piccone sentite notare avete sentito anche voi il rumore c'è un mostro qua sotto o magari c'era la lava no c'era il rumore di un mostro che ha fatto o magari c'è magari c'è nio morricone oppure c'è berlusconi qua che si stava scatarrando ferro guarda che non devi dominare il nome del maestro in vano ragazzi quando trovate ferro è perché molto probabilmente siete vicini alla meta abbiamo iniziato già col trovare dei fantastici minerali ferro è un minerale preziosissimo wolf quanto sei stupido villico era la battuta di effetto e chi è che l'ha scritta scottix allora facciamo questo pezzo qua per ok ok ma adesso sai dove va la scala si lo so lo so no non lo sai ci sto capendo più il cazzo allora la scala va dall'altra parte lì dove è trovato il ferro allora quindi qua qua non serve più qua lo possiamo coprire che tanto non serve a niente ma tu fai caldo scusa fai una parete e basta è come facciamo qua in Italia state calmo allora questo qua deve essere alta circa di 3 un piano della miniera perché per questioni di estetica poi perché vi muovete liberamente potete anche già che ci siete fuori più pietra dal soffitto cazzo acqua ma che cazzo è acqua sì ma non è normale ecco perché sentivo che c'era un rumore strano un carbone carbone sì è solo che non bisogna mai affondarsi dentro quando non si sa chi ci potrebbe essere soprattutto in estreme è libera poi ti fa un po' quello che volete allora vediamo se riesco no no ma beh puoi andare non è allora un secondino per vedere chi c'è dentro perché sicuramente qualcuno c'è e prendi la spada giusto prendiamo la spada che è il aspetta giusto così sono più comodo a selezionarla in caso di emergenza intanto giriamo già con la spada attiva l'ava siamo vicini è una buona risorsa allora adesso consiglierei di mettere torcia dappertutto no metti la torcia lì e nì eccolo l'ava lo zombie allora adesso se non moriamo si spera no ma dov'è lo zombie sembrava lo zombie no sì c'è movimento lì eh e ci serve più luce oh cazzo allora quando non sapete dov'è il nemico aspettate che sia lui a trovarvi di solito cioè di solito io faccio così ferro ferro carbone in sacco ho detto carbone vedo vedo allora muoviamoci iniziamo ecco lì non so inizia a prendere un po' che tiro di carbone allora quando trovate della vegetazione molto probabilmente vuol dire che c'è della cioè è a contatto col mondo esterno la nostra galleria cioè proprio adesso dovrebbe essere a grave sì cazzo non è il momento in cui ci serve dobbiamo veramente essere lucidi perché è pieno di zombie prendi tutto il carbone mi sa che ce n'è dell'altro dall'altra allora propongo di chiudere questa fessura qua che ha già rotto le palle chiudiamola con del pietrisco logico che chiuderla da qua è la chiedere troppo così l'acqua dovrebbe diminuire e smetterla di rompere le palle e no perché scende anche da qua adesso la metto di lì no vabbè però va bene no va bene così perché non no allora facciamo così delimitiamola eh sì tanto poi quando facciamo i secchielli dopo quando abbiamo abbastanza metallo ma che cazzo ah ho capito no ok allora facciamo così io non sto capendo più no va bene dovrebbe già essere diminuita l'acqua attenta da qua di sopra c'è un collo lo so lo vedo ma non mi è facile togliere l'acqua così su due piedi no fai così ecco ecco la nostra pozza no girati ecco anche no fallo lì faccio anche qua ne limito un po' naturalmente siamo caduti dentro la pozza no va bene così tanto adesso dovrebbe diminuire no va bene così ok ottimo è già diminuito mettiamole uno anche qua per estetica sì e adesso andiamo a prendere il carbone dai ottimo poi tanto quando facciamo la pozza infinita lo chiudiamo allora armiamoci sempre di spada e continuiamo no è dietro il carbone sì no armiamoci di spada e esploriamo un pochino la nostra zona zona ricordate sempre i metter torcia dappertutto se no prossima volta che venite trovate zombie dappertutto ma poi comunque non potete combattere qualcosa che non vedete appunto minchia quante grande sto ah eccolo dov'era na dov'è le vedi è pieno di mostri qua si fa tutto raggati Ok, l'abbiamo ucciso senza un danno Ok, no aspetta, mangia Ne sento un altro E quando si muovono Vuol dire che li hanno trovati Luce, perché tanto magari gli scheletri Bruciano Anche se di solito non ci sono No, aspetta, ritirati e mangia prima Perché è poca Tanto ci trova lui Lo scheletro, fidati Ecco va bene Allora, lo scheletro Quando lo sentite vuol dire che c'è Eccolo qua infatti Il nostro amicone Cercate di stare sempre sul culo Ecco, è morto per fortuna in fretta E piazzate sempre Torcio ovunque Abbiamo trovato una fantastica risorsa Perché praticamente Qua abbiamo già una cavità scavata E cioè Se no non sarebbe una cavità I ragionamenti di Jacopo Mi Ok Allora Vabbè Facciamoci una piccola scala per salire E mettere altre torce Perché se no si spawnano i mostri Tanto vale Mettiamo sempre torce dappertutto Torce, torce, torce Ce n'è? Cazzo Se cado da qua? No Allora, continua piano Un attimo che stava lagando Madonna, ma quanti grandi sta Aspetta Prendi Carbone Prendi quel carbone No Cazzo Dov'è? 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 Non so, non lo vedo Secondo me sta sparato da sotto Sì, può essere No Allora, armiamoci di spada e rientriamo Quando si sente Cioè, non è che No, è lì Secondo me Ti ha colpito da lontano Allora, abbiamo trovato un piano sotterraneo Quindi questa qui sarà la nostra miniera Virei proprio Eccolo là No Ecco qual era il tasto per lanciare la roba Come cazzo? È soltanto la sua E non puoi farla qua Certo che posso Ah già, cazzo Cazzo, cazzo Proprio adesso? Allora Scappate Scappate Ritirata strategica Ritirata Cazzo Non ho fatto la scala per risalire Speriamo che ci lasci stare No Non sembra averne voglia Cazzo Ma poteva anche farla una scala Porco mondo Speriamo che lasci stare E cosa dire insomma Lui è avvantaggiato perché Certo Cazzo Ah ma io sono coglione C'ho il piccone Andiamo alla ricerca Gli altri mostri Logicamente no Sì che comunque è la spada Ok ci ha lasciati Allora cerchiamo di costruirci Prima di tutto Niente panico Cerchiamo di costruirci Un cazzo di tavolo da lavoro Ok Piantiamo il tavolo da lavoro Che tanto fa sempre comodo Adesso Tavolo da lavoro Piantato Piantiamo delle torce Per vederci meglio Adesso Facciamo una spada Sperando che nel frattempo Non ci ammazzino Adesso un po' Che mi sto cagando addosso No non facciamocela in pietra Anche perché tanto Cioè Allora Ok Allora Non devo più premere il tasto Che lancia via la spada Ok Allora Mettiamo sempre torce ovunque Torce 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 Da quant'è che stiamo registrando Già che ci siamo 15 vai Allora Adesso torniamo là E affrontiamo quel cazzuto scheletro Che si di sicuro Ci starà aspettando Sta camperando Eh si Camper Sto rumore qua non mi piace Allora qua non c'è nessuno Dovrebbe essere qui però scusa Non può essere sparito E si sarà allontanato Non è normale Ah ogni tanto succede Il problema è che adesso Non abbiamo un posto Poi dove Andarcene via No c'è ancora No c'è qualcosa Ma non sembra dietro Allora dietro non è Sennò ci avrebbe già colpito Davanti Davanti non ci può vedere Quando è davanti E non lo vediamo È un problema Non sapevo che saltassero Sti cosi Ah 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 Creeper Preferisco Dire così che farmi uccidere Da un creeper Creeper Sperando che non riesca a saltare Ah beh lo facciamo esplodere Sperando che non ci ammazzi Ma scusa teoricamente Creeper Ha bisogno Dovrebbe esplodere Così senza No Hanno bisogno Cazzo Eh ma che palle sto scheletro Poi lo ammazziamo Allora O passiamo O lo passiamo O lo passiamo Da dietro Non è possibile Eh scusa Lui è lì Tu passi da Cazzo Ma porco mondo Sti scheletri Che sbucano Cazzo Giuro che se muoio Mi arrabbio Allora Torniamo No eravamo di là Perché c'era C'era il carbone Allora Già che ci siamo Scaviamoci Così che è più logico Soprattutto ci serve No mangia Mangia Mangiamo Tanto lo scheletro Non dovrebbero spuntarne fuori Altri da nulla Ok adesso prendi picco No vabbè Non stavare lì No è per Per facilitarne La strada Perché è in mezzo Rompe Sennò tutte le volte Devo saltare Qua c'è un buco Ok Già che ci siamo Lo tappiamo Sempre armati di spada Mi raccomando Torniamo sopra Sperando che Sto Stronzo D'un Lo scheletro Non rompa le palle Allora Secondo me Dobbiamo riuscire Dobbiamo riuscire a scendere Certo che è ancora lì Dobbiamo riuscire a scendere Che due palle No cos'è Era un creeper Se riuscissimo a far esplodere il creeper Da qui Ucciderebbe anche Cazzo Lo scheletro Lo scheletro Vabbè Lasciamo perdere No Lasciamo perdere per ora Questa parte la miniera Ci torniamo dopo Adesso andiamo a ispezionare il resto Perché Cazzo Ma porco mondo Sbucano dall'alto Sti qua Sì c'è un po' E perché No aspetta Arce un attimo Vedi lì c'è un passaggio Ah Un pandalino Allora facciamo così Andiamo a vedere Non è tanto consigliabile Lo sai Pazienza Io non faccio mai Qualche consigliabile Una miniscala Agia sto rumore qua Non mi indica niente di buono Ecco infatti Creeper Bomba Ritirata Ritirata Allora Agia cazzo Ci insegue Adesso Dovremmo riuscire A farlo esplodere Se si mettessi ad esplodere Dai via Ok Ok perfetto Ottimo Non ha fatto neanche tanto danno Ma stiamo giocando Ah ma perché stiamo gioca Ecco perché Siamo in modalità semplice No Ho controllato È bloccata Estrema No ma siamo in modalità Semplice Estrema Ah meno male No perché stavo già iniziando A temere il peggio Allora Sempre Grazie Sempre armati di spada Torniamo a risalire A vedere un po' cos'altro c'è Questa qui intanto È la nostra miniera Poi nella prossima puntata Troviamo i minerali Adesso Io consiglierei di farla finire qua Quindi ragazzi Un secondo Che do un'occhiatina Soltanto giusto per vedere Se c'è qualcuno O qualcosa E piazziamo un paio Piazziamo un paio di torce E Fiori Sì Ok Ottimo Qua siamo dove c'era Ecco Qua siamo dove c'era lo scheletro Siamo dall'altra parte No Ok Quindi ragazzi Chiudiamo qua Bella a tutti Da Wolf E dagli acromi Ci vediamo la prossima puntata Dove ci sarà l'altra esplorazione Della miniera Bella